Nove anni da sindaco. A 12 mesi dal termine del suo doppio mandato da primo cittadino di Pesero, Matteo Ricci ha tracciato ieri sera il suo personale dipinto a 360 gradi di presente, passato recente e futuro prossimo della città e del suo scenario politico. Un dibattito nel cortile dei musei civici ripreso dalle telecamere di Rossini TV in cui Ricci, incalzato dalle domande della stampa locale, ha analizzato trasversalmente ogni tema caldo del territorio. Dalla prossima capitale della cultura alla pericolosa convivenza con gli effetti del cambiamento climatico, dai nodi della sanità a quelli della gestione dei rifiuti, dai fondi PNRR legati alle grandi opere all'impegno nei servizi sociali. Inevitabile però il pungolo verso le prossime elezioni amministrative anche alla luce del recente ribaltone elettorale avvenuto ad Ancona. Il centrodestra locale, che diciamoci la verità, sono tutti bravi ragazzi ma non toccano palla, su nessun tema, né politico né amministrativo, sperano ogni volta nell'aiuto esterno, ma la metà di quelli che votano per loro alle politiche votano per noi alle amministrative. Quindi non riescono a rendersi conto che sono elezioni completamente diverse. Dopodiché, siccome non sottovaluto nulla, noi abbiamo fatto in questa legislatura delle operazioni politiche, secondo me, importanti. Perché siamo stati il primo comune ad allargare l'alleanza ai Cinque Stelle e abbiamo fatto l'operazione qualche giorno fa rispetto ai Verdi, che è un altro partito che sicuramente all'Europa si presenterà. E quindi la situazione di partenza non è paragonabile a quella di Ancona. Noi dobbiamo allargare, non ristringere. E quindi la strategia che abbiamo portato avanti è una strategia diversissima ad Ancona. Quindi io sono convinto di una cosa, che la destra qui batterà ancora una volta al muso, perché si illude che possa qualcuno aiutarli da fuori, mentre invece ci devono aiutare da soli. E penso, aggiungo, che rispetto a una regione dove siamo rimasti un po' soli, diciamo la verità, noi non solo vinceremo Pesaro, ma da Pesaro partilà la riscossa e la rivincita per le prossime elezioni regionali. Uno scenario politico in cui Ricci è pronto a cedere il passo dopo dieci anni di governo della città. Il terzo mandato non credo che ci sarà, anche perché la Meloni fa ragionamenti molto politici. Pensa che il terzo mandato favorirebbe il centro-sinistra, che dieci anni siano sufficienti. Io fra l'altro ho fatto anche cinque anni il presidente della provincia, quindi è quattordici anni che faccio l'amministratore locale. Io penso che siano sufficienti e che un buon amministratore non deve avere l'ansia di dover fare tutto lui, deve avere l'ansia di lasciare una bella eredità a chi verrà. Il futuro di Matteo Ricci dopo il 2024 è invece ad oggi quanto mai legato alla precarietà di lavoro in corso nel Partito Democratico. È difficile in questa fase così precaria, come dire, programmare che cosa ognuno di noi potrà fare. Io in questo momento sto programmando una cosa alla quale tengo molto, che è il nuovo Libro. Come avete visto ho ripreso negli ultimi mesi questa esperienza delle cene nelle case degli italiani. Sta andando molto bene, è un'esperienza molto bella che avevo fatto da sindaco parlando della città, la sto facendo nella provincia italiana parlando di politica e abbiamo deciso di trasformare questa esperienza in un libro. Per Ricci un 2024 come trampolina una riscossa politica e come anno spettacolare per Pesaro, capitale della cultura. Ma quell'anno è un anno nel quale avremo i riflettori accesi su di noi e quindi o noi lo giochiamo al meglio o altrimenti rischiamo di perdere un'occasione che non ci ricapita più. E guardate, le città della cultura, ci sono città che l'hanno gestita al meglio, che hanno avuto degli effetti benefici per gli anni successivi. Ci sono città che sono state il capitale italiana della cultura e non si è accorto nessuno. Quindi molto dipende da come lo giocheremo noi. Ovviamente nel 2024 avremo un programma strepitoso, lo stiamo costruendo un po' alla volta. L'obiettivo sarà quello di rendere continuamente riflettori nazionali sulla città, attraverso la musica, attraverso lo spettacolo, attraverso le grandi personalità e quindi il 2024 sarà un anno davvero indimenticabile.